Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Padre in azione in casa del cantautore fanese Luca Vagnini Assalto nella notte al distributore Kuwait di Senigallia Successo di pubblico per Fano Geo, ora si continua con la festa della mietitura Lega Pro, il Fano pareggia, però la salvezza è rimandata a domenica prossima Buonasera, ben ritrovati, benvenuti a questa prima edizione della settimana di Occhio alla Notizia La cronaca, una giornata impegnativa dal punto di vista del traffico Perché sono bastati un po' di calcinaci a terra sotto un ponte davanti all'uscita della 14 di Fano Per far scattare l'allarme e mandare in tilt la viabilità di un'intera città Vediamo che cosa è successo nel servizio di Fabrizio Naticchi Un semplice accertamento tecnico e strutturale alla base della chiusura del casello autostradale di Fano in entrata E che avrebbe interessato la rampa d'accesso dalla quale sembra si sarebbero staccati alcuni calcinacci Mettendo a rischio le autovetture in transito La chiusura ha provocato la deviazione del traffico, soprattutto quello pesante, sulla strada statale adriatica Con un'inevitabile formazione di code sia nel tratto tra Fano e Pesaro che sulla superstrada Fano-Grosseto L'intervento, messo in atto dai vigili del fuoco, è terminato intorno alle 12 E non sembra aver, almeno per il momento, riscontrato ulteriori anomalie lungo il ponte e la strada Ma ovviamente molta è stata la preoccupazione stamattina di viaggiatore e residenti Visto anche gli ultimi episodi tragici in A14, poco più di due mesi fa E inevitabili le ripercussioni sulla viabilità cittadina perché il casello è stato parzialmente chiuso Ma poi chiuso definitivamente, chiusa anche la rampa di accesso dalla superstrada Insomma i problemi ci sono stati per tutta la giornata Tant'è che alle 18, 18.30 in Comune c'è stato un vertice per valutare la situazione Insieme a Vigili del Fuoco, ANAS, Società Autostrade e Tecnici del Comune Noi siamo andati a sentire che cosa ci ha dichiarato il Sindaco Sindaco, allora che tipo di valutazioni state facendo? Beh intanto siamo su una riunione in corso insieme all'assessore ai lavori pubblici al Comandante dei Vigili del Fuoco, ad ANAS, Società Autostrade e ai nostri tecnici Stiamo ragionando sulle azioni da compiere Innanzitutto stanno terminando i lavori da parte dei Vigili del Fuoco della messa in sicurezza delle parti pericolanti che non sono elementi gravi, erano dei calcinacci e quelli nel giro di qualche ora sarà terminato e quindi quel pericolo viene completamente eliminato Poi c'è un problema di valutazione complessiva del ponte che ovviamente non si può fare a vista e stiamo coordinando i lavori con dei tecnici in concerto comune ANAS e Società Autostrade domani mattina saranno presenti sul posto per fare questa valutazione complessiva del ponte capire gli interventi necessari e la sicurezza così a vista in base alle cose che stanno emergendo non ci sono pericoli particolari c'è la necessità comunque di alcuni interventi però entro le 24 ore tutte queste verifiche strutturali saranno fatte e verrà definito anche quali saranno gli interventi da fare quindi ci saranno anche dei disagi in queste ore nel senso che il casello per ragioni di sicurezza rimarrà chiuso fino a domani finché non c'è stata questa verifica però ecco, ripeto le parti pericolanti e non parliamo di parti strutturali ma di alcuni calcinacci sono quasi terminati e ad opera dei vigili fuochi quindi quello è un problema che diciamo è risolto però sul resto bisogna riservarsi dopo il sopralluogo del gruppo dei tecnici composto, ripeto, da ANAS, Società Autostrade e Amministrazione Comunale e lì ci riaggiorneremo sulle scelte che si faranno però prevedo che dopo questo sopralluogo per le condizioni in cui adesso che grosse problematiche non ci dovrebbero essere bene, noi naturalmente seguiremo l'evolversi della situazione tutti gli aggiornamenti poi ora per ora li potrete trovare sul nostro sito Occhio alla Notizia continuiamo con la cronaca cronaca nera però perché ladri in azione in casa di Luca Vagnini il cantautore fanese sentiamo dalle sue parole che cosa è successo allora Luca un risveglio poco piacevole stamattina sì, sì, è un risveglio decisamente poco piacevole per me e la mia famiglia insomma non è veramente non è piacevole che cosa è successo? ma nulla mia madre si è addormentata alle due è andata quindi in camera da letto alle due di notte dalla sala mio padre si è svegliato attorno alle tre e un quarto e si è accorto che insomma le finestre del mio salotto le porte finestre erano aperte e poi si è accorto che mancava la sua giacca al che ci ha svegliato guarda sono entrati i ladri abbiamo notato il buco nella finestra e mancava la sua giacca con dentro portafoglio cellulare e chiavi di casa e anche il mio portafoglio con 20 euro dentro però c'erano tutte le carte di credito il banco e le carte insomma varie quindi un attimo c'è stato un po' lo shock abbiamo ovviamente chiamato le forze dell'ordine sono arrivate subito abbiamo fatto subito una prima indagine e hanno ritrovato subito tutto il materiale di sotto e hanno ricostruito un po' la scena mancavano i soldi e questa è una cosa che non è importante però mi rende triste per chi ha fatto questo gesto rischiare la propria vita per 20 euro o per chissà che cosa vuoi trovare in un appartamento sono arrampicati hanno fatto 6-7 metri di grondaia non sai chi c'è dentro come si può reagire quindi questo mi lascia un po' di tristezza non è la prima volta che accade i distributori di benzina e le colonnine del service che contengono i soldi spesso nelle giornate che vanno dal sabato sera alla domenica e a lunedì mattina vengono prese d'assalto è stato questa volta il caso del distributore Kuwait di Senigallia vediamo che cosa è successo tre furti nel giro di pochi mesi e l'ultimo la notte scorsa quando hanno fatto irruzione intorno alle 2 e hanno divelto con un camion le due colonnine del distributore Kuwait a Senigallia sulla strada statale adriatica di fronte all'ipercop la banda è stata messa in fuga dalla polizia del comando di Senigallia intervenuta subito anche se gli agenti non sono riusciti a bloccare i rapinatori che sono scappati tra i boschi in località strada della bruciata sulle colline che circondano la zona rintracciato invece il furgone a bordo del quale i malviventi sono inizialmente scappati via all'interno del quale era presente una delle due colonnine con i soldi dei rifornimenti mentre l'altra è rimasta a terra vicino alle pompe di benzina sull'accaduto sono ora in corso le indagini della polizia e ritorniamo in A14 però per un fatto di crona che aveva provocato un incidente a marzo scorso e non aveva nemmeno prestato soccorso al malcapitato però è stato rintracciato e denunciato sentiamo aveva provocato un incidente lo scorso 20 marzo in A14 all'altezza di Ancona Nord tagliando la strada ad un suo collega e causando il ribaltamento di un auto articolato e si era allontanato senza prestare soccorso si tratta di un camionista ucraino di 58 anni residente in Italia rintracciato dalla polizia stradale di Fano e denunciato che subito dopo l'incidente si era dato alla fuga lasciando la vittima ferita senza prestare i primi soccorsi secondo le prime immagini analizzate dagli investigatori della polostrada avrebbe prima rallentato per poi ripartire e uscito al casello di Montemarciano avrebbe fatto inversione per passare una seconda volta sul luogo dell'incidente come a voler controllare il danno fatto ma anche stavolta senza prestare il minimo soccorso Veramente agghiaccianti queste immagini concesseci dalla polizia di Stato però molto eloquenti ed ora parliamo di uno dei luoghi universalmente riconosciuti come i più belli di Fano la Sassonia che presto subirà altri lavori sempre di abbellimento naturalmente Dopo i murales degli studenti del liceo artistico Levetti e Seneca ecco in arrivo all'Isippo le terrazze sul mare 5 terrazze panoramiche sopraelevate agli scogli che renderanno la passeggiata dell'Isippo più bella offrendo al tempo stesso anche punti per potersi riposare e godersi la vista dal ponte Sul lato mare verranno installate queste 5 terrazze che sono delle vere e proprie terrazze che a sbalzo sul mare di 9 metri per 1,50 m di profondità che all'interno poi prevederanno anche una panchina per la sosta che ci permetteranno poi di usufruire quindi della passeggiata dell'Isippo di questa infrastruttura abbastanza importante e molto utilizzata quindi anche dal pubblico cittadino per quindi avere anche delle zone di sosta lungo il percorso della passeggiata sono iniziati infatti questa mattina e dureranno circa un mese i lavori che il comune di Fano ha dato in concessione a Marina Group coordinati dall'architetto Pierluigi Floris che riguardano nello specifico la verniciatura della balaustra esistente della passeggiata e la realizzazione con conseguente messa in sicurezza di un'altra balaustra lato mare un cantiere necessario dunque che si inserisce in un più ampio piano di miglioramento della città e oltre ad impreziosire la zona queste terrazze faranno anche da schermatura ai futuri capannoni di Marina Group che sorgeranno nell'area Bene speriamo anche che l'ingresso in questa bellissima passeggiata venga migliorato e sicuramente enfatizzato perché è stretto tra l'Istituto di Biologia Marina e un campo di beach volley un camminamento di pochi centimetri non rende sicuramente giustizia a questo bel posto e alle volte come ci hanno riferito diversi turisti non lo riescono nemmeno a trovare ora vi mostriamo un'altra un'ennesima immagine di uno sciame di api siamo in città siamo in via Ugolino De Pili praticamente a 20 passi da piazza 20 Settembre il luogo lo riconoscete sicuramente tutti ecco queste sono delle immagini che ci ha mandato un nostro ascoltatore e queste invece sono le le immagini che abbiamo registrato questo pomeriggio vedete lo sciame si è radunato tutto a forma di quasi proprio di favo e sono diverse migliaia le api che compongono questa nuova colonna sotto un balcone appunto in quella strada speriamo che siano state recuperate anzi ci avevano assicurato che un apicoltore presto sarebbe andato a prenderle e a fare come dire quello che fanno tutti gli apicoltori portano un alveare e cercano di far entrare le api poco alla volta nell'alveare perché insomma sicura ecco vedete questo è il luogo dove si era rifugiato questo sciame di api saranno veramente decine e decine migliaia di api perché insomma la densità è molta bene nonostante il tempo un po' incerto fanno geo domenica sabato e domenica al codma è stata visitata la fiera dell'agricoltura da tantissime persone vediamo come è andata e che cosa c'è stato il suono di un vecchio fiat arancione che sbuffa e scuote l'aria attorno e riempie con il suo canto tutta l'area del codma ci dice che questa inequivocabilmente è la fiera della terra una terra che va ascoltata come dice il titolo di questa ventinovesima edizione ascoltarla nel suo grido di dolore per le difficoltà che gli agricoltori vivono ultimamente sia nel suo canto anche di speranza per le tante aziende sia di giovani o condotte da giovani che guardano al domani fiduciosi Fanno Geo è l'occasione per rivedersi parlare discutere e presentare il frutto della propria fatica che come ogni anno avviene ogni associazione di categoria premia nella espressione di un'azienda del territorio quest'anno è toccato all'azienda agricola San Cesareo al birrificio del Catria e all'azienda agricola di Francesco Pazzaglia ricevere la statuetta che vuol significare più che un traguardo un incoraggiamento a continuare nel sentiero tracciato Sostegno importante che l'amministrazione comunale attraverso l'assessore Cecchetelli sta fornendo a questa importantissima manifestazione ovviamente anche tutto il consiglio comunale è interessato e si pone per quelle che sono le sue funzioni vicino iniziative come queste che rappresentano una rete straordinaria per quello che riguarda una tipicità della nostra cultura e del nostro territorio cioè la cultura contadina l'attività economica che proviene dall'agricoltura che è parte della nostra storia e che oggi con le difficoltà anche economiche che ci sono diventa sicuramente un ulteriore motore di sviluppo per il futuro mi piace anche di questa fiera in particolare il rapporto dei bambini e ai bambini far conoscere gli animali perché purtroppo in una generazione di computer di videogame si siamo un po' allontanati da questa realtà diciamo nostra che era le nostre basi quindi portare qui far vedere i bambini ringrazio tutte le associazioni che hanno dato la possibilità di far conoscere di portare animali di far conoscere degli sport far conoscere quindi vedere i bambini possono vedere nella realtà viva quello che è il mondo degli animali il mondo della vita agricola due giorni iniziati di sabato mattina presto con le centinaia di bambini che ad occhi sgranati hanno assistito alle esibizioni di rapaci cani pastore fatto il battesimo della sella per i più temerari ed osservato da vicino asinelli porcellini ed altri animali che magari in città non si vedono mai eredità impegnativa quella della fiera agricola presa in carico dalla Proloco che la organizza per il terzo anno consecutivo Panogeo questa mattinata è stata inaugurata nel pomeriggio ancora le esposizioni e tanti eventi così come domani dove vi ricordo nel pomeriggio avremo l'esibizione dei cani da pastore da non perdere ciao 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 bene c'eravamo anche noi con la nostra telecamere presto a giorni uno speciale approfondimento proprio su tutto quello che è avvenuto in queste due giorni ma si continuerà a parlare di agricoltura in attesa domenica prossima della festa della mietitura al falcinetto park ma sono tanti anche gli appuntamenti in questa settimana ce ne parla nel servizio Filippo Pucci dopo la conclusione della prima settimana dedicata all'agricoltura con Fano Geo al Codma di Rosciano che ha visto tanti bambini delle scuole fanesi espositori di prodotti tipici e dimostrazioni cinofili ed equestri continua con la seconda parte della settimana agricola infatti domani martedì 23 maggio a partire dalle ore 15 presso la località di Falcinetto partiranno le giornate del grano visite su un campo varietale composto da grano duro grano tenero ed orzo per un totale di 30 varietà coltivato dalla cooperativa di Falcinetto l'organizzazione è curata dal consorzio agrario dell'Adriatico e da Singenta con lo scopo di fornire più dati possibili agli agricoltori sulle migliori qualità di grano da coltivare sempre nella stessa giornata e nello stesso luogo sarà possibile anche partecipare e testare alle prove in campo mezzi e attrezzature agricole di ultima generazione saremo presenti nella giornata con i nostri due marchi Fend e Massey Ferguson avremo sia delle macchine da prove e sia delle macchine invece statiche in cosa consiste? consiste che durante la giornata i clienti che vorranno provare le macchine verranno da noi avremo un gazebo e si registreranno lasceranno i loro dati firma sulla privacy e responsabilità delle necessarie e dopodiché potranno salire a bordo il tutto si concluderà nel weekend di sabato 27 domenica 28 maggio a Falcineto Park dove sarà in programma la 38esima edizione della festa della metitura con alcune novità faremo la rievocazione delle varie fasi lavorative quindi della mietitura della trebbiatura della ratura e anche della raffinatura del terreno esclusivamente con mezzi d'epoca con tutti i mezzi d'epoca una piccola novità di quest'anno ho detto piccola ma è una novità importante sono gli stand gastronomici che saranno gestiti solo saranno presenti solo nella giornata di domenica saranno gestiti però per la prima volta dal ristorante Montecucco e l'azienda agricola Roberti Marco che verrà a proporci le sue famose grigliate di carne vi aspettiamo quindi tutti sabato 27 domenica 28 maggio alla festa della metitura e vi invitiamo tutti a partecipare per gli amanti di queste splendide macchine ci sarà di cui illustrarsi gli occhi sicuramente parliamo come ogni lunedì di sport dalla redazione sportiva sul Fano e da altre la redazione sportiva appunto con Matteo Del Vecchio sentiamo grazie Lino e benvenuti al consueto appuntamento con lo sport del lunedì che apriamo anche questa sera ovviamente con il calcio e con l'Alma Juventus Fano che ieri in gara 1 dei play-out di Lega Pro ha ottenuto un prezioso punto sul campo del Forlì sarà la sfida di domenica prossima al Mancini a stabilire dunque chi tra Alma Juventus Fano e Forlì la prossima stagione giocherà ancora tra i professionisti e chi invece dovrà tornarsene in Serie D finisce infatti 1 a 1 la sfida del Morgagni un risultato che sorride al Fano che al ritorno in seguito al miglior piazzamento ottenuto in campionato avrà a disposizione due risultati su tre per centrare la salvezza di fronte a circa 1.400 spettatori di cui quasi metà di marca ospite Forlì e Fano danno vita ad un match sicuramente non troppo spettacolare tanto che per la prima mezz'ora di gioco non si registrano particolari occasioni se non con dei tiri dalla distanza a sbloccare la gara è il forlivese Alimi che al 32esimo indovina l'angolo dalla distanza trafiggendo l'incolpevole portiere Granata Menegatti il Forlì potrebbe allungare poco dopo ma sullo spiovente di Cappellini fanno buona guardia Ferrani e lo stesso Menegatti e così il Fano passata la paura riesce a ricompattarsi e a trovare il pareggio prima dell'intervallo con Gualdi che stacca di testa su corner di Gabbianelli e l'1-1 con cui si chiude la prima frazione resterà poi il risultato finale nonostante nei secondi 45 minuti di gioco i padroni di casa provino in più di un'occasione a sfondare trovando però sempre l'efficace opposizione di Menegatti Verdetto rimandato dunque a domenica prossima quando l'Alma sicuramente sospinta da migliaia di tifosi cercherà di raggiungere un obiettivo che a metà stagione sembrava impensabile sperando di recuperare i vari Zigrossi Taino e Zullo usciti malconci dalla sfida di ieri e dal calcio passiamo al calcio a 5 col Flaminia che dopo una stagione strepitosa purtroppo ha dovuto abbandonare i sogni promozione proprio all'ultima curva ha il sapore della beffa per le ragazze fanesi l'ultima partita della stagione di calcio a 5 femminile il team fanese dopo essere approdato alla finalissima per la Serie A dell'It e aver perso l'andata in casa per 5 a 2 domenica 14 maggio vincere nella Tana dell'Angelana per 4 a 1 con reti di Valentina Falcioni e tripletta di Claudia Giovannelli fatali alle ragazze di Alessandri Imbriani calci di rigore con errore decisivo proprio della Giovannelli un errore che comunque non macchia una prestazione e una stagione eccezionali in cui la società del patron Giacomo Grandicelli è arrivata veramente ad un passo dalla massima categoria e il calcio a 5 è uno degli sport protagonisti anche delle finali dei campionati regionali CSI che si sono svolti a Fano lo scorso weekend proprio da questa specialità infatti sono arrivate le maggiori soddisfazioni per il comitato provinciale di Pesaro Urbino grazie alla finale tutta in famiglia tra SD Fortitudo Sant'Orso e SD Sportland a vincere per 2 a 1 in rimonta dopo una gara spettacolare ed equilibrata sono stati i rossi di Sportland grazie alle reti di Enrico Radi e Manuel Gaggi che hanno così ribaltato il provvisorio vantaggio di Andrea Gabbianelli la formazione panese del presidente Giancarlo Bellucci accede così alle finali interregionali che si terranno ad Alba Adriatica dal 2 al 4 giugno alle finali regionali CSI hanno partecipato circa 150 persone tra giocatori dirigenti ed accompagnatori con festa finale che si è tenuta alla cooperativa Tre Punti dove ci sono svolte anche le premiazioni e dalla festa del CSI passiamo a quella che si è svolta sabato al liceo Nolfi dove sono stati coinvolti vari studenti e la Colle Marathon nell'aula magna dell'istituto Nolfi il comitato organizzatore della Colle Marathon e l'assessore allo sport Caterina Delbianco hanno incontrato i circa 50 studenti di Nolfi Padalino e Volta che lo scorso 7 maggio hanno preso parte alla 15esima edizione della Maratona dei Valori i ragazzi guidati dalle insegnanti Silvia Ceccarelli Cinzia Ceccarelli Giovanna Magini e Stefania Binucci hanno percorso il primo tratto della gara da Barchi a Fano e l'ultimo arrivando al traguardio di Marina dei Cesari gli studenti di Nolfi Padalino e Volta i cui istituti aderiscono da anni al progetto a scuola di corsa sono stati premiati con la medaglia di partecipazione dal podista Riccardo Quattrini complimenti dunque ai ragazzi fanesi che hanno partecipato alla Colle Marathon questa era l'ultima notizia di questa sera io come sempre vi ricordo l'indirizzo mail al quale inviare le vostre segnalazioni che è sportchiocciolafanotv.it per questa sera tutto da parte mia e della redazione sportiva l'augurio a tutti voi di una buona serata e grazie Matteo e allora vi ricordo anch'io qualcosa le vostre segnalazioni sono importanti per noi vedete in sovraimpressione il numero 338 49 68 250 questo è il numero al quale potete mandare messaggi whatsapp fotografie insomma tutto quello che attira la vostra attenzione noi lo valuteremo naturalmente daremo corso alla notizia se questa sarà sicuramente importante dopo di noi dopo occhio alla notizia vi ricordo che andrà un'altra puntata di in cucina con lo chef carta e penna per appuntarvi la ricetta se volete e poi uno speciale a tema elettorale io mi fermo qui grazie per essere stati in nostra compagnia il telegiornale occhio alla notizia torna domani sera puntualmente alle 20 e 30 buona serata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti